In questa puntata, in arrivo fondi europei per 3,3 miliardi. La regione al fianco delle start-up. Dante, SCART, arte e rifiuti per un futuro utile e possibile. Torna il Valdarno Film Festival. La Toscana nel settennato 2021-2027 avrà a disposizione 3,3 miliardi di euro di fondi europei, un terzo in più del 2014-2020. E quanto ha detto il Presidente della Toscana, Eugenio Gianni, intervenendo nell'Aula del Consiglio regionale sulla programmazione europea 2021-2027 e sulle principali linee strategiche della Toscana. Ora definiremo bene quelli che sono i progetti, ma abbiamo rispetto a Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni e quindi ce le gestiamo in regione. Sul FESRE noi puntiamo molto sui fondi per lo sviluppo, l'investimento, l'adeguamento delle imprese e devo dire che pioveranno sulle imprese in Toscana più di 500 milioni in questi sette anni. Contemporaneamente puntiamo molto sull'altro, il secondo fondo, il Fondo Sociale Europeo, per arrivare a quell'obiettivo che io mi prefiguro, fra un anno o due, di una bella quantità di risorse per garantire alle famiglie che hanno 30, massimo 40 mila euro di reddito annuo, la possibilità dell'asilo gratis per i loro bambini, che vi è in questo Fondo Sociale Europeo tante risorse per quello che sono i fondi per l'occupazione, le politiche attive del lavoro. Devo dire che poi su quello che riguarda i fondi europei noi metteremo e giocheremo molto nell'infrastrutturazione, soldi per la tramvia, per le piste ciclabili, per mezzi ecologici. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe, queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo, ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, che con queste risorse faccia uno scatto in avanti, richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani, di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro, credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Abbiamo ascoltato la grande narrazione del Presidente Gianni in aula su un documento che ci è stato presentato una settimana scorsa, un documento che sostanzialmente fa una narrazione molto curiosa della situazione prepandemica e soprattutto prepandemica in Toscana e su quello sostanzialmente che deve essere il modo superandi per investire nel momento in cui andiamo a ripartire tutti assieme. Ora torneremo in aula a metà di ottobre e Fratelli d'Italia ha intenzione sostanzialmente di rispondere a questo papier presentato oggi dal Presidente Gianni con proposte sostanzialmente costruttive capaci di portare un contributo a una narrazione che rimane sostanzialmente fino ad oggi molto generica e sui generis. Il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo e meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi e i dati negativi sono il fatto che la regione toscana è ancora lontana anni luce dalle regioni virtuose. del nord sotto tanti aspetti. Ne dico una su tutti. Si parla tanto di mobilità sostenibile. La Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale. La Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana nonostante sia la fonte maggiore di gas serra ed è ancora lontana anni luce. La Toscana è la conversione sul trasporto ecosostenibile rispetto alle regioni virtuose del nord. Si parla di adeguamento di strutture alla normativa antisismica ma si parla soltanto di strutture sanitarie e ospedaliere che per l'amor di Dio hanno bisogno di essere adeguata ma non c'è una parola o una sulle strutture scolastiche. Noi abbiamo ancora scuole in Toscana che sembrano essere uscite dal libro cuore dell'Ottocento. Quindi c'è ancora tanto da fare. La speranza è che visto che sono arrivati tanti soldi in tutto sono quasi 3 miliardi di euro da destinare alla regione toscana che questa giunta faccia le scelte giuste. Noi dalla prossima volta saremo in aula con decine di proposte e vediamo quanti di queste saranno recepite dalla maggioranza. Si tratta di risorse importanti, le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana che sono quelli dell'export ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è rivolto alla domanda interna che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose ad iniziare dalla popolazione anziana. Tutte queste priorità fa l'atto coincidono con le priorità che sono contenute nelle sei missioni del PNRR. Quindi sarà importante cercare di armonizzare gli interventi. Quindi avere un quadro complessivo di finanziamenti da dirottare sui settori finanziabili con il PNRR e invece finanziare altri settori non riconducibili alle provvidenze del PNRR da finanziare con la programmazione ordinaria o con i fondi aggiuntivi 30 miliardi che il governo ha messo a disposizione. Io credo che è vero e giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende. È nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare. Perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio esclusivo di sostegno che serve ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. Nell'auditorium del Palazzo del Pegaso l'incontro con le start-up che si sono aggiudicate i primi contributi della nuova legge regionale, 37 i progetti ammessi con 1.750.000 euro di risorse erogate. Noi siamo al fianco di chi vuole scommettere su costruire nuovo lavoro, nuova occupazione, abbiamo ascoltato anche tante cose che possono essere migliorate però nelle parole delle ragazze e dei ragazzi, da quelli più giovani a chi ha più esperienza c'è l'idea di questa Toscana, della nostra Toscana, una Toscana che vuole scommettere sul futuro, che vuole scommettere sull'impresa, sul lavoro di qualità, a noi il compito di sostenerli. Il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge disse con chiarezza, noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare imprese e vuole scommettere sul proprio futuro. Sostenere le imprese nella loro crescita, dall'inizio quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50.000 euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione, ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cup, con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo, cioè se un investitore privato investe 100 la Regione fa altrettanto all'interno delle imprese, dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione, loro devono pensare a costruire il business, a trasformare la ricerca in valore e meno le questioni amministrative perché non hanno neanche le competenze al proprio interno e poi incentivare ancora con più forza la figura del Temporary Manager, cioè le aziende, quelle più piccole hanno bisogno di alcune competenze che forse non hanno al loro interno e noi dobbiamo sostenerli mettendo a disposizione coloro i quali possono aiutare a crescere e a cercare mercato. Arte e rifiuti due mondi solo apparentemente distanti si incontrano, si confrontano e disegnano un futuro utile e possibile. Questo è SCART, il lato bello e utile del rifiuto. Dante e la Divina Commedia, progetto artistico del gruppo ERA, inaugurato al centro Expo di Via dei Pucci a Firenze con il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. Io sono emozionato entrando nel vedere come il messaggio potente di Dante si può attualizzare, si può attualizzare proprio per il tempo che stiamo vivendo. La potenza di quel messaggio arriva oggi e pensare che attraverso il riuso, il riciclo, il rutilizzo si possa costruire arte e cultura è qualcosa di enorme, di enormemente bello. Sapere davvero che noi possiamo lavorare tutti insieme nella direzione di costruire un mondo migliore è ancora più bello. A questo progetto hanno lavorato l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, l'Accademia delle Belle Arti di Ravenna e di Carrara, oltre a tre teste realizzate dai ragazzi di San Patrignano. Ecco, si vede proprio, si percepisce la mano, la cultura delle diverse accademie. Mi riferisco per esempio alla testa di Dante realizzata dall'Accademia Fiorentina dove si vede una testa molto pop perché è la concentrazione di molti rifiuti, di varie tipologie di rifiuti provenienti da tante attività industriali. A questa vicino a me dell'Accademia di Carrara realizzata con gli scarti delle scaglie di marmo, delle sculture che fanno in Accademia e l'ultima l'Accademia di Ravenna dove si percepisce benissimo la mano dei mosaicisti ravennati. Torna con l'edizione numero 39 il Valdarno Cinema Film Festival che per questo ritorno in presenza apre il programma con un evento speciale dell'Ampi e una serata dedicata a Nino Manfredi. Poter riavere questo Festival del Cinema che è uno dei più antichi in Italia, fatto in presenza, è già un elemento molto importante non soltanto per il Valdarno, non soltanto per il Comune di San Giovanni, per la Toscana ma complessivamente per il cinema. Poi è anche una manifestazione che ha elementi di grande contemporaneità con l'invito alla cineasta afghana che è appunto una delle promotrici dei diritti civili a Kabul, quindi in questo momento credo che è veramente un valore aggiunto e poi anche pezzi di storia come l'inizio del Festival dedicato a Nino Manfredi. Dopo l'anno terribile del 2020 il Comitato Organizzatore del Valdarno Cinema Film Festival è riuscito a riportare il Festival all'interno delle sale cinematografiche. Per noi è veramente questo un obiettivo importante che abbiamo raggiunto, un Festival che è un fiore all'occhiello per la nostra cittadina ma non soltanto per il Valdarno e per la provincia d'Arezzo che in quasi 40 anni ha portato a San Giovanni Valdarno nomi illustri della cinematografia nazionale ed internazionale ed è sempre stato anche uno strumento per lanciare nuovi artisti. La regione toscana da molti anni sostiene la cultura del cinema, i frutti si vedono, la nostra è una regione dove ancora i cinema ci sono, dove i festival hanno lunga vita come questo del Valdarno, dei San Giovanni che compie 39 anni. Tutto questo è un segno di salute per la nostra regione, è un bellissimo segnale per chi vive qui. Aiutateci a convincere le persone a frequentare di nuovo le sale cinematografiche, sono luoghi sicuri dove ci si diverte assolutamente in salute. Andate al cinema!